Allora, sapevamo che la partita era difficilissima e sarebbe stata un'impresa comunque ribaltare il risultato dell'andata perché comunque alla lunga i valori sono venuti fuori e loro hanno meritato, strameritato di arrivare al titolo che giustamente, ma io dall'inizio dell'anno, che l'avevo detto anche a Franco, che loro erano una delle candidate a salire sicuramente. Noi non siamo ancora attrezzati forse per questo salto qua ed è il primo anno dove sono stati 50% del gruppo comunque formato da ragazze che l'anno scorso facevano il campionato di CSI, giovani, quindi avremo tutto il tempo ancora per crescere. È stata bella, bella la stagione perché comunque l'obiettivo era di arrivare fino in fondo e fino in fondo ci siamo arrivati. Il nostro obiettivo era quello, salire sarebbe stato forse un pochettino troppo.